Alta sui naufragi dai belvedere delle torri, che il net distante sugli elementi del disastro, dalle cose che accadono al di sopra delle parole, celebrative del nulla, lungo un facile vento di sazietà. Che cosa ho a che fare io con l'Europa e dunque come posso contribuire a questo nuovo progetto o ancora quali sono le opportunità legate ai fondi europei per quanto riguarda la nostra regione? Di questo parliamo all'interno di questa puntata di Marche.Europa che ritorna a voi benvenuti, partendo in particolare dal passaggio di consegni tra la vecchia programmazione dei fondi strutturali 2007-2013 che si va chiudendo con un bilancio del 98% dei fondi messi a disposizione che sono stati spesi, parliamo di circa 570 milioni di euro per arrivare alla nuova programmazione 2014-2020. Ma facciamo un passo indietro partendo dal bilancio. Per quanto concerne il primo asse, quello dell'innovazione e l'economia della conoscenza, un grande rilievo ha avuto sul tema della ricerca, lo sviluppo delle filiere tecnologiche. Mi piace anche ricordare, però un tema chiaramente molto caro ai nostri imprenditori, commercianti e quant'altro, gli artigiani, insomma tutte le categorie produttive, l'investimento che c'è stato per mettere a loro disposizione strumenti innovativi per l'accesso al credito. Questo è un tema importante che ritroveremo chiaramente anche nella nuova programmazione. Per quanto concerne il secondo asse, la società dell'informazione, l'intervento più grande è stato quello del piano digitale, quindi il superamento del digital divide. Questo è un argomento sul quale la regione è molto attenta e investe e guarda molto a futuro. Abbiamo visto anche nella nuova programmazione, siamo molto affine ai sentimenti europei, più di quanto lo sia poi il governo italiano. L'altro tema caratterizzante di questa programmazione 7.13 è stato il tema del cloud, che già in questa programmazione è partito e poi verrà molto sviluppato nella prossima programmazione. Per quanto concerne poi il terzo asse, l'efficienza energetica e la promozione delle energie rinnovabili, appunto c'è stato un grande investimento per quanto concerne l'utilizzo delle fonti rinnovabili. È un tema molto sensibile, è un tema molto importante, perché noi abbiamo un deficit di produzione energetica. Gli obiettivi che l'Europa ha fissato per la regione Marche, per quanto concerne il bar del sharing, sono ancora un po' lontani, quindi è fondamentale che ci sia stato questo investimento, che sicuramente ha portato dei risultati, ma ancora non sono risultati soddisfacenti. Quindi abbiamo ancora strada da fare. Per quanto riguarda il tema l'asse 4, l'accessibilità ai servizi di trasporto, anche qui sono stati fatti grandi investimenti. Voglio ricordare uno caratterizzante, se vogliamo, la programmazione sul tema, quindi l'elettrificazione della linea ferroviaria Ascoli-Porto d'Ascoli. E poi, infine, il quinto tema, la valorizzazione dei territori, ha portato a finanziare degli interventi cosiddetti PIT, che sono stati costruiti, ideati, progettati e condotti da enti locali, province in maniera congiunta, proprio per la valorizzazione turistica dei territori. E su questo asse proprio abbiamo investito molto anche sulle attività di marketing e promozione della nostra regione che poi, tanto risultato, hanno portato in tema di turisti che poi arrivano a visitare la nostra regione. Dunque i progetti futuri che hanno bisogno di vita, di acqua, in questo caso, come questo grano, i prossimi sette anni della futura programmazione, che cosa dobbiamo aspettarci? Coerentemente con quelle che sono le linee di indirizzo di Europa 2020, della strategia della nuova politica di coesione europea, i filoni principali saranno anche in parte in continuità con l'attuale programmazione e soprattutto il sistema delle imprese. Ovviamente stiamo uscendo da un periodo di crisi forte, quindi è inevitabile che una maggiore attenzione anche rispetto al passato sia rivolta proprio a sostenere il sistema delle imprese, quindi da un lato l'innovazione e ricerca, dall'altro proprio interventi a supporto della competitività delle piccole e medie imprese e anche per superare magari in una fase anticiclica nei primi due anni di programmazione ancora alcune problematiche di crisi produttive che rileviamo. Sarà importante anche l'asse, il filone dell'efficientamento energetico, così come della mobilità urbana nei centri urbani, nella logica sempre di una riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico, e poi diciamo che l'altro asset su cui in particolare la nostra regione punterà molto è quella della valorizzazione dei beni culturali e ambientali in una logica di attrattività del territorio, quindi per un sviluppo turistico della regione. C'è un'idea, una direzione di fondo? Diciamo che la prossima programmazione che sta partendo si caratterizza per un forte indirizzo da parte dell'Unione Europea di concentrazione tematica, cioè si chiede di concentrare le risorse su pochi, tra virgolette, diciamo pochi, relativamente pochi obiettivi in modo da massimizzare l'efficacia e poi le ricadute sul territorio. Quindi ci sono dei meccanismi per cui, per esempio, su quello che riguarda il Fondo dello Paese di Sviluppo Regionale, l'80% delle risorse dovrà essere indirizzato su quattro filoni di intervento. Quindi questo pone da un lato dei vincoli maggiori alle amministrazioni che gestiranno i fondi, le regioni in particolare, ma dall'altro ovviamente aiuterà quel processo di appunto minor dispersione delle risorse che talvolta può vanificare magari il gran lavoro che si fa. Questi fondi come potrebbero cambiare la nostra regione? Partiamo dalle criticità che abbiamo e quindi l'analisi ovviamente dei punti di debolezza soprattutto della regione sono quelle che ci guideranno poi nell'attuazione di interventi. Per esempio sul fronte della ricerca, la ricerca e sviluppo nelle imprese, sia pubblica che privata, è nella nostra regione a livelli bassi. Per cui un filone importante di intervento sarà proprio volto a incrementare questa capacità di fare ricerca da parte del sistema delle imprese marchigiane. Un altro elemento è quello dell'efficientamento energetico e del risparmio energetico. ipotizziamo ad esempio di attivare un cattasto energetico di tutti gli edifici pubblici della regione che poi possa essere propedeutico, poi a una realizzazione efficace degli interventi in questo senso. Ampio lo spazio per il contributo delle imprese nella precedente e nella nuova programmazione dei fondi UE. Diversi i temi. Innovazione e trasferimento tecnologico come punto iniziale che le camere comunque da sempre affrontano e seguono. Basti pensare agli uffici Marchi e Brevetti e il centro regionale Patlib, quindi l'importanza della tutela della proprietà intellettuale. Su questo siamo nuovamente a disposizione della regione. Basti pensare all'importanza anche per le attività del turismo e del commercio, all'innovation e communication technology, quindi tutte le nuove tecnologie che possono essere di aiuto al marketing del nostro territorio sono per noi una priorità. Questi temi diciamo più importanti come innanzitutto l'internazionalizzazione. Quindi sappiamo, siamo consapevoli che la nuova programmazione dei fondi punterà molto. Gli obiettivi tematici guardano con molta attenzione a questi temi, su cui il sistema camelare già ha dato prova di affidabilità. Quindi su questo aspetto garantiamo, vogliamo garantire alla regione nuovamente un supporto. Già lo facciamo con Info Day, con giornate informative, anche grazie alla rete N che ha sede in una delle strutture della nostra regione. E quindi da questo punto di vista siamo pronti. Certamente lanciamo anche noi una sfida, quindi la possibilità di interagire con la regione attivamente anche nelle fasi di sviluppo e di gestione delle risorse. Su questo le Camere di Commercio vantano maggiormente un'esperienza sui fondi europei di cooperazione territoriale, quindi quelli a gestione diretta. Parlo dei programmi di cooperazione anche in Adriatico, IPA, MED, Southeast Europe, su cui abbiamo avuto molte esperienze. Anche noi come Camera di Commercio di Ancona, l'ufficio che presiedo, ha gestito in questi anni progetti importanti, sempre sulla tutela proprietà intellettuale, sull'open innovation in affiancamento alla regione con il programma ICTIMED, ad esempio, che ha fatto un po' da spartiacque anche per alcune sfide che lancerà la regione nei fondi strutturali della prossima programmazione. E quindi anche su questo fronte guarderemo con attenzione alle prospettive, sia per quanto riguarda i fondi di gestione diretta, quindi nuovi programmi di cooperazione trasfrontaliera, anche guardando alla macro-regione ovviamente. e però ecco, vorremmo e siamo pronti anche per dare un contributo attivo anche alla gestione dei fondi strutturali a livello regionale e locale, sostegno delle nostre imprese e del territorio. Siamo abituati a sentire Ce lo chiede l'Europa e di solito lo pensiamo in modo poco positivo. Noi invece che cosa chiediamo all'Europa? Allora, innanzitutto questo tema del Ce lo chiede l'Europa. Chiaramente l'Europa ci pone degli obiettivi da raggiungere nel 2020 e sono degli obiettivi molto stimolanti, perché sono chiaramente degli obiettivi di crescita. Il tema di Europa 2020 è quello di creare delle regioni intelligenti, sostenibili e inclusive. Sono tre termini che chiaramente ci danno l'idea di quali siano le priorità che l'Europa ci pone e sono priorità chiaramente molto integrate nel nostro tressuto, quello marchigiano intendo. Come immaginare le marche del 2020? Anche se la tradizione nostra è diversa, se vogliamo, noi siamo una regione, sì, manifatturiera, ma con delle origini molto legate al territorio, proprio questo essere così radicati, insomma, avere una tradizione forte, secondo me ci dà basi più solide per diventare una regione molto smart e molto intelligente. Io la vedo così, perché già in questa programmazione abbiamo avuto la testimonianza che ci sono, c'è un tessuto, una comunità pronta a crescere e a raccogliere queste sfide. Quindi sta a noi anche il compito di, insomma, da fare di promotori, ma soprattutto di unione, diciamo, di queste forze per andare in questa direzione. Io vedo una regione molto moderna. Un territorio, insomma, che sa guardare avanti ai progetti che cambiano giorno dopo giorno, alle nuove sfide, dall'altra a riuscire a mantenere salde le proprie radici, come questi alberi. Attorno a questo equilibrio difficile, ma non impossibile, si gioca il nostro futuro. Qui si chiude questa puntata di Marche.Europa. A voi, grazie di averci seguito. Arrivederci alla prossima puntata. A voi, grazie di averci seguito. A voi, grazie di averci seguito.